Il centro-destra Gela si combatta a prove di dialogo intense sabato scorso nella sede di Forza Italia, una vera e propria riorganizzazione al fine di costruire un progetto di rilancio della città. L'incontro è stato promosso dal deputato regionale Pino Federico, commissario cittadino di Forza Italia. Il centro-destra sta iniziando, si ricombatta, ma sta iniziando un percorso, un percorso che ci deve portare a creare un'alternativa politica per questa città, per questo territorio, perché purtroppo oggi c'è stata da vent'anni e c'è solo una monoproposta, ma ultimamente è arrivata la proposta di Grelline, che sappiamo come è andata a finire, c'è una religiosità e non governano, per cui noi insieme cerchiamo di creare una proposta finalmente di rilancio anche amministrativo di questo territorio. Erano presenti la segretario cittadino di Noi Consalvini, Antonio Giudice, Bruno Antonuzzo del Partito Socialista Gaetano Minardi di Fratelli d'Italia e Grazio Trufolo del Partito Liberale. Si potrebbe, Antonio Giudice, estaurare anche un rapporto di collaborazione con il Movimento 5 Stelle? Ma ovviamente chi sposa la nostra proposta politica e il nostro progetto è il benvenuto. Noi abbiamo iniziato questo percorso di unione fra tutti quelli del centro-destra circa un anno fa. Questo percorso non si è interrotto, lo stiamo portando avanti. Noi avevamo un progetto, il progetto era quello prima di ritrovare e rilanciare la destra, ma era propedeutica al discorso di rilanciare poi il centro-destra. Mi pare che a piccoli passi e a brevi tappe stiamo riuscendo a ricompattare quello che per me è l'alternativa naturale a questo disastro che la sinistra oramai da troppo tempo regala. Poi i grillini hanno dato, no i grillini chiedo scusa, il sindaco Messirese e Compari hanno dato il colpo di grazia. Questa amministrazione non la capisco, non la vedo, non la sento, quindi praticamente è un'amministrazione ferma. Noi siamo nel centro-destra, culturalmente siamo nel centro-destra. Noi riteniamo che comunque con leggere differenze siamo obbligati a stare assieme perché il danno prodotto da PD prima negli ultimi vent'anni, dai grillini adesso in un anno di amministrazione abbiamo capito che praticamente amministrare per loro è una cosa complicata e quindi siamo obbligati a stare assieme. La prima tappa fondamentale è quella di stabilire regole chiare e soprattutto un programma talmente tanto ambizioso da portare Gela a quel ruolo nel Mediterraneo, quindi non solo in Italia, che le competa. Nei prossimi giorni le segretarie dei partiti daranno degli incontri con tutti i movimenti che fanno riferimento al centro-destra locale al fine di dare al territorio e alla città una alternativa politica seria, valida ed efficiente. E l'NCD non fa parte del gruppo? No, l'NCD anche perché a livello nazionale governa con il centro-sinistra, a livello regionale dà appoggio al governo del centro-sinistra, per cui penso che oggi non ci sono le condizioni per stare con noi.